Questa istituzione per troppo tempo è avvertita come un'istituzione lontana, eppure è un'istituzione fondamentale per la vita di 20 milioni di cittadini che vivono nel mezzogiorno d'Italia. Senza le ingenti risorse che l'Europa ci mette a disposizione non potremmo fare gran parte delle politiche di formazione, di ricerca, di infrastrutture che si fanno e si realizzano nel mezzogiorno. Dunque tutto questo però non viene percepito come una vicinanza dell'Europa. Quindi la prima fondamentale sfida è quella non solo di trasferire risorse, ma di trasferire anche e soprattutto la presenza, il ruolo, la funzione dell'Europa verso il mezzogiorno d'Italia, verso l'Italia, in modo tale che i cittadini percepiscono questa istituzione non come un'istituzione lontana, ma estremamente vicina ai loro interessi e domande. E poi trasformare queste attese, queste domande in politiche concrete, verso le nostre piccole e medie imprese, verso i nostri ragazzi e ragazze. Abbiamo nel mezzogiorno concentrato gran parte della gioventù italiana e dunque l'Europa deve essere più presente per offrire a loro una straordinaria opportunità, una chance per il loro futuro in termini di formazione, in termini di lavoro. E dunque dobbiamo avere un'Europa più concreta, più vissuta concretamente da milioni di cittadini. Questo è l'impegno che vorrei portare dall'esperienza di una regione, dall'esperienza di una città come Napoli, di portare qui concretamente nella vita di queste nostre istituzioni.